Il 75esimo anniversario della liberazione d'Italia. Siamo qui in modo diverso, ma forse in modo ancora più forte. ...della festa dell'Italia verso la democrazia e verso la rinascita. Proprio per questo, questa semplicissima cerimonia, insieme alle organizzazioni partigiane abbiamo voluto che si svolgesse lo stesso e che in qualche modo potesse raggiungere anche coloro che non sono presenti, in un momento particolare, dove è giusto non trascurare questa ricorrenza, ma dargli anche... Questa è e deve sempre essere la festa della liberazione dall'oppressione colpevole di terribili atrocità, di distruzione, di milioni di morti.